Le stelle di Azus Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di giovedì 23 luglio. Ariete, il lavoro propone delle problematiche di difficile soluzione. Cercate di affrontare un impegno alla volta senza fare confusione, i risultati arriveranno. Toro, arriva una giornata fortunata in cui riuscirete ad ottenere dei risultati al di sopra delle vostre aspettative. In amore riuscite anche ad essere molto romantici. Gemelli, i rapporti con gli altri potrebbero riservare qualche sorpresa, soprattutto sul lavoro. Non lasciatevi affascinare da progetti fumosi, siate razionali. Cancro, sul lavoro rischiate di essere troppo superficiali, sottovalutando le difficoltà di una nuova impresa. In amore vi manca la giusta carica passionale. Leone, le questioni finanziarie devono essere trattate con attenzione. Avete buonissime occasioni di guadagno, ma ogni mossa deve essere valutata attentamente. Vergine, la fortuna sembra essere decisamente dalla vostra parte. Regalandovi una giornata piena di sorprese, anche in amore vivrete delle emozioni particolari. Bilancia, non riuscite a gestire con freddezza i rapporti sentimentali. La luna complicata vi rende sospettosi e pronti ad accusare il partner per ogni sciocchezza. Scorpione, riflettete bene prima di parlare perché rischiate di commettere delle gaffe clamorose. In compenso, la vostra simpatia vi renderà irresistibili in amore. Sagittario, siete troppo concentrati sulle questioni materiali. La luna vi rende un po' egoisti e i rapporti con gli altri possono diventare molto conflittuali. Capricorno, una bellissima luna vi mette di buon umore già dalle prime ore della giornata. La vostra compagnia sarà piacevole e sarete molto ricercati dai vostri amici. Acquario, non fissatevi su problemi senza troppa importanza. Sotto questa luna avete la tendenza ad ingigantire le difficoltà. Anche in amore siete un po' esagerati. Pesci, in famiglia c'è tensione. Questo non fa altro che alimentare un certo nervosismo che condizionerà in negativo anche la sfera professionale. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano su Facebook alla pagina Oroscopo di Azus. Grazie per la visione!